Cleto Corposanto, scrittore, sociologo e viaggiatore, presenta In viaggio, una vita da flaneur. Episodio 17. La Thailandia. Bangkok è una città fantasmagorica, una delle città con il traffico urbano fra i più incasinati che abbia mai visto. Una città dove la nozione di tempo non ha grande significato, così come la tradizionale suddivisione mattina, pomeriggio, sera, notte. È un ciclo continuo che non si interrompe praticamente mai. A qualunque ora si può fare qualsiasi cosa, accompagnati quasi sempre dal rumore degli immancabili tuk-tuk che sfrecciano per le strade. Atterro nella capitale thailandese al termine di un bellissimo volo Air Italy, un volo diretto, un servizio che purtroppo poi non si è prolungato nel tempo. L'aeromobile è nuovissimo, non è pieno, il volo è tranquillo, nessuno scossone, nessun problema, il cibo a bordo è perfino buono e il personale è molto cortese. Insomma, dopo una decina d'ore l'arrivo è quasi un dispiacere. Sono arrivato a Bangkok per prendere parte ai lavori di un convegno sul tema al quale sto lavorando da tempo, Nutrition and Public Health. Ho ricevuto l'invito da parte del comitato organizzatore e ho visto che nel programma sono presenti alcuni colleghi che ho già conosciuto in altre occasioni scientifiche in giro per il mondo. In aggiunta, questa volta parteciperà al convegno anche un altro italiano, un mio vecchio amico e collega di Trento, Pierangelo, che non vedo da almeno 15 anni. Lui ha fatto una scelta radicale una ventina d'anni fa, ha ricevuto un invito per un periodo di insegnamento in una università thailandese, ha accettato e letteralmente è piaciuto il posto che un paio d'anni dopo, appena andato in pensione dal ricercatore, si è letteralmente trasferito in Thailandia e da allora vive a Bangkok. Lo rivedo volentieri, abbiamo condiviso molti dei nostri anni iniziali in questo lungo percorso in università. Bangkok ha un traffico incredibile, ma un altrettanto incredibilmente efficace sistema di trasporti. Raggiungere il centro della città è facile e veloce, grazie allo SkyTrain realizzato nel 1999. Una specie di metropolitana sopraelevata, due linee, 48 stazioni e quasi 54 chilometri di estensione, utilizzata giornalmente da circa 750.000 persone. In questo, molto più frequentata della tradizionale metropolitana, la subway, che pure ha numeri impressionanti. Dovunque tu voglia andare, o quasi, c'è una fermata dello SkyTrain o della metropolitana nelle vicinanze. E questo, in una grande città, aiuta. Il mio albergo non è molto lontano dal sede del convegno. La fermata è la E2, Ploenchit, sulla interminabile Sukhumvit Road. Si tratta di una delle quattro strade più importanti di tutta la Thailandia, lunga in totale 488 chilometri e collega la parte est della Thailandia alla frontiera con la Cambogia. Nel suo tratto urbano è più lunga della capitale, la più lunga, 12 chilometri e mezzo circa, a quattro corsie perennemente intasate. Raggiungere l'albergo dall'aeroporto, grazie allo SkyTrain, un gioco da ragazzi. Anche fare bene la mappa dei trasporti è importante perché arriva in una città enorme e sconosciuta per la prima volta. In una mezz'ora si depositano i bagagli e, jet lag permettendo, si esce a dare un'occhiata a questa incredibile capitale nel sud-est asiatico. Una delle cose che colpiscono mentre si cammina, per le strade sempre piene di gente, è l'altissimo numero di posti che vendono cibo e bevande di ogni tipo e di qualsiasi tipo di cucina. Si può comprare veramente di tutto, in un'orgia di proposte culinarie da fare invidia ad un trattato di cucina internazionale. I tailandesi mangiano e bevono senza soluzione di continuità. Non c'è orario definito, si mangia frutta fresca o pesce fritto acquistato per strada a qualunque ora del giorno e della notte. Per non parlare dei numerosissimi negozi della catena 7-Eleven, se ne trova uno ogni 50 metri, comodissimi, perché vendono praticamente di tutto, anche da mangiare, of course. Lo spettacolo dello street food tailandese è comunque incredibile, basta poco, quattro tavolini, un po' di sedi di plastica, e si allestisce un ristorante per strada dove è possibile mangiare grigliate di qualsiasi roba, in un clima nel quale voci e fiumi la fanno da padrone. Impensabile pensare alle norme che regolano lo stesso tipo di attività altrove, per esempio in Europa. L'Asia, da questo punto di vista, è decisamente un'altra cosa. E un'altra cosa che è difficile non vedere camminando per le strade sono le molteplici identità di genere, così come vengono vissute in Thailandia, il buddismo, religione maggioritaria, certamente favorisce un aspetto di tolleranza molto più marcata, anche su questo, alle nostre latitudini. E quindi, all'interno di società e cultura tradizionale Thai, è possibile imbattersi in diversi ruoli di genere, a cui vanno aggiunte ulteriori indicatori di mascolinità e femminilità. Non è raro, quindi, passeggiando per le affollate strade di Bangkok, imbattersi in identità cosiddette Tom Dee. Tom, ovvero donne che si vestono, si comportano e si esprimono in modo marcatamente maschile, e quindi solitamente capelli corti a caschetto, niente gonne ma pantaloni, sandali e camicie da uomo, e anche un uso del gergo abbastanza, diciamo, crudo. E di, invece, sempre donne, per lo più omosessuali o bisessuali, che invece ci tengono ad esibire le caratteristiche della propria femminilità e cercano, di solito, un rapporto affettivo proprio con una Tom. Al contrario, dal punto di vista dei generi tradizionali, è frequente anche incontrare i cosiddetti ladyboys, maschi che vestono, si comportano e parlano come una donna, assumendo in tutto e per tutto un'identità femminile. Altrove, per lo più viene usato il termine transgender. In Thailand, invece, si definiscono katoi, comunque facente parte della vasta definizione di intersessualità. Di recente, in ogni caso, il termine katoi sta andando un po' in disuso, e viene solitamente riferito esclusivamente alla transessualità legata alla prostituzione. Per tutta la gamba di maschi che, invece, assumono identità e ruolo sociale femminile e che non si prostituiscono, si usa appunto il termine ladyboys, Bangkok che è veramente variopinta anche da questo punto di vista. Incontro Pierangelo la mattina del convegno. Parliamo un po' prima dell'avvio dei lavori. Rievochiamo vecchie storie accademiche trentine. Nel tardo pomeriggio, finiti i lavori, ci beviamo una birra in un posto molto carino, in Soy 7, una delle tante strade perpendicolari alla via principale. C'è un'ottima birra, buona musica di sottofondo. Si può tranquillamente chiacchierare. Poi mi invita a vedere l'appartamento che ho acquistato dieci anni fa. Due camere soggiorno, un angolo cottura al dodicesimo piano di uno dei tantissimi grattacieli presenti in forma di residence, ipersorvegliati, ascensori che si aziona solo con tessera personale e ti porta solo al tuo piano, sistemi di sorveglianza video incredibili. Non vogliono avere problemi di alcun tipo, qui mi viene in mente. L'incontro con il mio ex collega è piacevole. Mi racconta dei frequenti viaggi in macchina in Laos, dove ha molti amici, e dell'impossibilità di imparare il Thai, per cui parla sempre e solo in inglese. Per fortuna qui lo parlano quasi tutti, quindi non ci sono molti problemi. La sera andiamo a cena in un locale del convegno e nonostante lui ebbe alla macchina ci andiamo in tuk-tuk per provare l'emozione ad attraversare parte della città sui piccoli veicoli a tre ruote all'aperto che sfrecciano fra le colonne di auto con manore al limite dell'ecito e dell'equilibrio. Ma si risparmia molto tempo rispetto al tradizionale uso di altri mezzi, e quindi tant'è. Una giornata di pausa del convegno è destinata alla visita di quella che era in tempi lontani l'antica capitale del regno del Siam. Si tratta della città di Ayutthaya, 80 km a nord di Bangkok, fiorente centro di commercio, a partire dal XIV secolo e fino al 1767, quando fu rasa al suolo dai birmani. Oggi rimane un bellissimo parco archeologico con i resti di antiche costruzioni che dovevano essere certamente imponenti e un posto di grande pace e tranquillità. Lascio Bangkok e la Thailandia con la promessa di tornare in questa città. Mi aspetta un trasferimento a Hong Kong, via Kuala Lumpur, prima di fare riferimento in Italia. Ho letto poi nei giorni successivi delle manifestazioni degli studenti a Bangkok. Da tempo, quasi ogni giorno, gli studenti universitari delle scuole superiori manifestano per chiedere maggiore democrazia. Chiedono soprattutto che venga sciolto il governo guidato dal generale Praio Chan-Nocha e che venga riscritta la Costituzione emanata dal governo militare dopo il colpo di Stato del 2014. Chiedono insomma democrazia. Sono tanti e hanno deciso di sfidare una delle nazioni che prevede pene fra le più severe per chi osa sfidare il re che dalla legge è equiparato praticamente a una divinità. I giovani sono sempre stati protagonisti dei grandi cambiamenti culturali in tutto il mondo. Andrà così anche in Thailandia dove si organizzano soprattutto sui social network e per protesta l'utilizzo di riferimenti culturali pop come le saghe letterarie di Harry Potter e Hunger Games. Professor Corposanto, mi scusi la domanda, ma lei non si è stancato di viaggiare? Ma zero proprio, zero. Questo è un podcast indipendente prodotto in collaborazione con una ristrettissima cerchia di amici.